Ciao a tutti, oggi sono qua per provare con voi la nuova palette occhi della Too Faced se avete visto l'ultimo video vi ho mostrato un illuminante, fatto a screen new, della collezione appunto Diamond che abbiamo scelto da Too Faced e vi volevo far vedere appunto la palette che è qualcosa di meraviglioso, la Pretty Rich Diamond Light Shadow Palette, è veramente gigante perché è grossa quanto a me faccio praticamente e dentro è così con lo specchio, le colorazioni sono queste, qui ci sono un sacco di top glitter come potete vedere, molti colori satinati altri opachi, oggi vorrei fare appunto, vorrei utilizzare degli ombretti per gli occhi, per fare un trucco occhi verdi, allora quindi inizio prendendo un colore di transizione che è questo qua, Highly Selective, è lui con un pennello più concentrato andiamo sotto la rima con sempre lo stesso colore, in insieme a un pochino di cuore, questo per intensificare Insieme a un pochino di questo per intensificare Con il dito prendo questo più bianco e lo mettere con il dito, come potete vedere non la faccio bianco bianco ma ha un effetto quasi olografico sul rosato. Provo a prendere questi glitter. Lo mettiamo un po' qui al centro. Devo dire che la scrivenza di questi ombretti ha e come potete vedere si vede. Lo metto sullo slopar dal centrale fino al finale dell'occhio. La scuola è la scuola. La scuola è la scuola. Un trucco velocissimo per risaltare gli occhi verdi. Questo è il risultato con la palette preferente. Diciamo che si possono creare molti look proprio perché ci sono varie tonalità di colore, ci sono sempre top glitter da aggiungere, quindi in base anche alla vostra colorazione preferente si può creare. Vi mando un bacio e alla prossima. Ho la scuola. Ho la scuola, ho la scuola. Grazie a tutti.